Ho pensato ad un nuovo grande pacchetto per il progetto La Musica a casa vostra e credo che ne saranno contenti gli amici dell'Umbria perché so che amano moltissimo questo strumento. Guardate qua, tutto FISA, un pacchetto dedicato alla FISA armonica. E partiamo con FISA IT, è una compilation di vari artisti, contiene caro tango, passeggiata dance, taranfa mix, balla cowboy. FISA Vincente, il liscio composto e suonato dal grande Paolo Bagnasco e Fausto Fulgoni. E ancora FISA Party, contiene Fizzomba, la danza del sole 2017 di Giampiero Vincenzi. Ed altri bellissimi brani, tutti dedicati alla FISA armonica. Beh, direi che è un bellissimo regalo da portare a casa vostra, perché? Perché con questo pacchetto vi arriverà in regalo questa bellissima compilation dedicata al Natale con delle bellissime canzoni. Sapete che può essere un bellissimo regalo di Natale quest'anno? Perché la musica mette allegria. In più c'è un bellissimo cd di canzoni natalizie. Il tutto, sempre come gli altri, a 39 euro, solo 39 euro a casa vostra. Tre cd più il cd di Natale, compreso spese di spedizione e di contrassegno. Quando arriva il postino e vi suona la porta dovete soltanto ritirare il pacco e consegnare la somma in contanti. E poi godervi tanta bella, buona musica. Ma in questo modo, come dico sempre, oltre a star bene noi, facciamo un po' girare l'economia. Aiutiamo questi grandi artisti che non avranno l'opportunità di lavorare, ma soprattutto non avranno l'opportunità di stare con noi, perché siamo noi che siamo la loro energia. Quindi per aiutarli, ma soprattutto per avere della bellissima musica, per stare bene tutta la giornata, il nuovo pacchetto, il pacchetto FISA, con in regalo il bellissimo cd delle canzoni natalizie. Affrettatevi, cominciate già a pensare ai regali di Natale e avrete sicuramente un gran successo. Affrettatevi, cominciate già a pensare ai regali di Natale e avrete sicuramente un gran successo.